Ciao a tutti e bentornati in Tessilan News, pronte a conquistare la scena con uno stile che ormai è tornato in auge da qualche anno, uno stile che ricorda i college americani, ormai plasmato però anche per la vita di tutti i giorni, perfetto per le più giovani ma anche per chi adora la praticità e la comodità con stile. Vi presentiamo quest'oggi un set in ecopelle con dettagli argento davvero molto originale, parliamo del set borsa college. Eccolo qui al completo il set borsa college composto come vedete da 5 elementi che analizzeremo ovviamente ognuno nel dettaglio. Partiamo dal fondo eccolo qui in ecopelle che misura 30x10, questi fori invece che sono gli stessi che troverete anche qui misurano 0,4 cm di diametro. Passiamo invece adesso all'altro pezzo forte, vale a dire la patta, larga 29 cm e lunga 22 cm ed ha questo manico robusto, cucito e rivettato che garantisce davvero una resistenza e una praticità grazie anche a questi pratici anelli inseriti alle due estremità che saranno utili per inserire poi la tracolla. La patta invece è rivestita anche internamente in ecopelle questa volta nero ed è inserita già la prima parte della chiusura a pulsante. Chiusura a pulsante che è questa e che potrete inserire e poi ovviamente estrarre in questo modo, una classica chiusura a pulsante, eccola qui. Parliamo invece adesso della tracolla, una tracolla che si estende dai 75 ai 125 cm, larga invece 2 cm e dotata di questi moschettoni sempre color argento, utili per inserire la tracolla direttamente al vostro set college che potrete quindi indossare sia a tracolla e sia così, quindi direttamente con il manico. Ultimo ma non meno importante è questo grazioso rettangolo, potrete applicarlo direttamente sulla borsa insieme alla chiusura a pulsante in modo tale che insomma non si noti alcuna differenza e che questo set possa essere davvero completo. Ma vediamo adesso anche le altre varianti di colore che compongono proprio questa nuova serie. un set borsa che appartiene ad uno stile davvero molto alla moda, grande ma non ingombrante, che non richiede molto filato ma il giusto per mettere in pratica e anche in mostra le vostre conoscenze e le vostre abilità nel crochet. Perfetto per le più giovani per camminare da una facoltà all'altra con stile e praticità e diciamolo per mantenere alto quello stile vintage che tanto ci piace e di conseguenza va benissimo anche per chi ha qualche anno in più ma vuole essere sempre alla moda e trovare una valida alternativa alla shopping bag. Anche perché diciamolo questo set borsa dispone di una tracolla e si sa che la tracolla permette di avere ben due mani libere. Che siete mamme, nonne, lavoratrici o comunque persone impegnate può essere di fondamentale importanza. Un set made in italy di qualità e da poter abbinare a qualsiasi outfit che vogliate richiamare lo stile proprio college quindi benvengano gonne a pieghe, camicette e maxi pull. Oppure qualcosa anche di più pratico come pantaloni larghi, camicie di jeans o semplice t-shirt. Un set borsa che combinato agli altri filati made in italy di Tessiland vi permetterà di poter indossare un prodotto esclusivo alla moda ma soprattutto di qualità. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito vi ricordo di seguirci e iscrivervi su tutti i nostri social vale a dire in primis ovviamente youtube ma anche facebook sia la pagina meglio di maya che al gruppo Tessiland e anche instagram, pinterest e tiktok di leggere i nostri articoli sul blog e ovviamente di essere costantemente aggiornati sulle nostre novità e anche sui nostri sconti iscrivendovi alla newsletter. Noi ci vediamo al prossimo nuovo articolo. Ciao! Ciao!